Welcome back! Dopo il level 1 Arm and chest facciamo un po' stretching perché devo fare anche un po' stretching dopo che ho trainato per avere più strato e ho cercato anche la musica senza copyright facciamo un po' stretching un po' stretching chiamo un po' stretching A proposito al centro Colonico schifo Usi Grazie a tutti. 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 Yeah. Ok? Yeah. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.